Dopo Venezia Schio, passiamo dal facile al meno facile, però sicuramente Schio ha cambiato molto quest'anno, diciamo rompendo il nucleo storico che lo contraddistingueva negli anni passati, hanno comunque preso delle migliori italiane che ci sono sul mercato e sicuramente delle straniere, soprattutto le lunghe, di grandissimo valore. Bisogna vedere che impatto avranno con il campionato italiano le Gluta e il Levander, ma comunque fino adesso si è visto una Schio che gioca molto bene di squadra, in una difesa molto attenta, un attacco molto scolastico ma efficace e d'altronde l'impronta di un grande allenatore come Ben San si vede del tutto evidente. Noi purtroppo mi sarebbe piaciuto andare con l'entusiasmo di aver vinto con Venezia, invece con Venezia non abbiamo fatto una grandissima prova sotto diversi punti di vista, però è buono che adesso abbiamo subito una partita immediatamente per poterci riscattare e per non stare lì a crogiolarci nei nostri dolori, ma essere pronti ad andare sul campo e andare di nuovo a battaglia.